Tele Durruti, Palermo, il cinema, la presenza dei camion cartocci è indubitabile. Raggiù si gira qualcosa, immagino che si voglia raccontare la Palermo degli anni Sessanta, non a caso le auto, la mille e cento, noi l'avemmo carta da zucchero e ancora una seicento, una bianchina, tutte targate rigorosamente Palermo, una lancia, questa dovrebbe essere una lancia ardea, furgoncino, cose proprie, le comparse rigorosamente con la coppola, e in questa piazzetta c'era un tempo in forno e c'è una celebre foto di Federico Patellani del 1947. Via Roma. Il cinema a Palermo. Di cosa tratterà mai questo film? La chiave col portachiavi. Mezza parola. Ma che film è? Come mezza parola? Già non è il tuo libro. Non posso filmare. Non posso filmare? No. No. E perché? Come perché? Puoi filmare? Ma noi siamo sul suolo pubblico. Sì? Non puoi filmare. Sono un giornalista tra l'altro quindi posso filmare perfettamente. E infatti sto qui, comunque suolo pubblico. Teleturrut, Palermo. A presto. O che sono? Grazie a tutti.